questo è uno dei quattro campi gara vi ricordo che ogni società viene qui con quattro persone e in ogni ognuno dei quattro campi gara che sono Savona, Spotorno, Finale Ligure e Albenga avrà un concorrente e poi insomma le classifiche faranno tutto il resto quindi la prova qua è Finale Ligure quello che si può vedere immediatamente è il fondale molto pronunciato c'è un bel gradino purtroppo come Jonathan potrà confermarvi per causa dei gabbiani il drone ha potuto volare ben poco a sua salvaguardia quindi le due fasce che inizierò a perlustrare saranno due la prima i primissimi metri quindi trave molto leggero poi lo vedremo quando lo recupero è già in pesca braccioli da un metro e venti ami non troppo piccoli perché poi comunque la preda va tirata fuori da questo gradino pronunciato e poi siccome esiste anche chiedere informazioni ai locali eccetera eccetera questa sarebbe la spiaggia dei lanciatori e quindi io voglio vedere se con la mia Cassiopea XCM 230 grammi è il mio trave da 0,70 con due o tre braccioli da 70 centimetri verificherò che cosa quello che c'è al massimo della mia distanza non potendo individuare né secche né dislivelli né canaroni perché non si possono vedere con questo tempo tra l'altro la parola magica tempo mi lascia mi lascia un pochettino sorridere perché a quanto pare domani e dopo domani che sarebbero venerdì e sabato di gara è previsto un tempo molto ma molto ostile e quindi tra l'altro questa prova potrebbe anche non servire a niente se oggi proviamo col mare quasi piatto e poi domani si prova col mare a montagne però d'altronde il bello della pesca anche questo facciamo finta che domani ci sono queste condizioni e vediamo un attimino come si può studiare il campo gara avendo a disposizione poche ore di pesca sono riuscito a organizzarmi i flotter e gli ami in una custodia che comunque mi garantisce la protezione degli ami dall'umidità poi qua in questa cio tutta la mia il mio esercito di braccioli pronti però adesso ovviamente devo scegliere l'amo per per la canna che lancerò in ground quindi avendo un'idea che potrebbero esserci sia le mormore che i pagelli utilizzerò adesso queste del 14 il 10 120 n che è un amo crystal molto leggero lo metterò nell'amo pescatore magari dal del numero 10 mentre per i pagelli utilizzerò un altro amo che a me piace molto che è un bec leggero ovvero lo shinken pint e sono indeciso se utilizzare il 12 o il 10 perché poi ovviamente la dimensione dell'amo la misura dell'amo va anche in proporzione alla taglia delle prede quindi io prudenzialmente incomincio con un amo del 12 se vedo che i pagelli sono se se ci sono e se sono di una discreta dimensione allora passo all'amo del 10 il flotterino luminoso lo si passa semplicemente infilando un pezzo di bracciolo nell nell'occhiellino di fil di ferro e poi si passa vedete quindi rimane bello fisso sul bracciolo però facendo un po di pressione si riesce a spostare lungo il bracciolo anche perché poi adesso ci legherò l'amo e poi va posizionato quasi subito a ridosso dell'esca con questo tipo di flotterino abbiamo l'esca che fluttua in mezzo all'acqua e poi di notte puntandoci la lampada per pochi secondi è anche luminoso la montatura che ho lanciato prima in ground che ho fatto con i braccioli più raccolti vi ricordo che al primo lancio ho incagliato quindi ho dovuto cambiare ho messo un filo in bobina più grosso uno 0,22 e adesso sto verificando in che condizioni è l'esca oppure magari se c'è anche qualche pesce perché no per il discorso dei granchi per vedere se dopo dieci minuti l'esca è ancora presentabile aspetto da non poco perché se l'esca non è ben presentata i pesci non li prendi sono nel gradino ok non c'è niente di meglio di un trave che non ha preso neanche un pesce per far vedere come è fatto allora semplicemente dovendo fare distanza i braccioli sono corti questi sono all'incirca meno di 50 centimetri sono 45 centimetri all'incirca li ho flotterati tutti e tre per vedere un attimino come lavorava sia la renicola che è molto rovinata e sia il coreano perché comunque all'interno dello stesso trave preferisco sempre mettere più più esche diverse e poi magari se vogliamo far vedere la particolarità di questa montatura è che che l'amo alto vedete anche durante il lancio non arriva a toccare l'aggancio tra shock leader e montatura e quindi è sempre un ulteriore rischio in meno di un groviglio che potrebbe compromettere la presentazione di un'esca quindi tre esche perfette appena appena rovinate sicuramente da rinnescare però adesso non rilancerò alla massima potenza ma incomincerò ad accorciare magari alleggerendo passando dai 150 grammi ai 120 25 perché ovviamente anche la lunga distanza va sondata sia coi piombi pesanti che coi piombi intermedi salvatore mi sa che la tecnica del spostare l'esca ogni tot minuti rende è una è una sicuramente una notizia molto importante io ho spostato l'esca poco fa